Liguria Arancione Liguria Arancione Liguria Arancione Liguria Arancione Il presidente di Regione Liguria Giovanni Totti che ha aggiunto Fino alla verifica del 28 gennaio comunque sarà così Liguria Arancione Liguria Arancione È stato quello di garantire la connettività e gli strumenti tecnologici adeguati anche alle famiglie meno abbienti all'interno delle quali ci sono studenti per mettere tutti nelle stesse condizioni di apprendimento. Da lunedì 18 gennaio iniziano i nuovi interventi di messa in sicurezza dei canali delle acque bianche a Chiavari. Si procederà all'intervento all'incrocio di via Piacenza con via Ogolini e via Bado Giannotto dove verrà modificato e deviato il tubo dell'acquedotto con diametro di 30 cm che occlude il transito delle acque bianche, dice Paolo Garibaldi, consigliere comunale delegato alla materia. Dopo le diverse ispezioni messe in atto abbiamo appurato che tale situazione è grave sull'intera rete sino a piazza San Fronte. Dalle 8.30 di lunedì mattina a fine lavori quindi via Bado Giannotto sarà chiuso al transito e con divieto di sosta nel tratto tra via Piacenza e via Aldo Gastaldi. Riunione per definire la riqualificazione di un'area di proprietà comunale di via Don Minzoni a Rapallo in cui attualmente è presente un campo da basket adibito anche a pista di pattinaggio. Il progetto prevede la creazione di un'area ludico sportiva multifunzionale costituita da uno skatepark ovvero di una struttura in cui poter praticare attività legate allo skateboard da una pista di patinaggio da una parete per arrampicata. Sono soddisfatto di come sta procedendo l'iter per la creazione di questa area polisportiva e ringrazio il consigliere comunale con incarico allo sport Vittorio Pellerano per aver ascoltato e cercato una soluzione ai desideri di tanti ragazzi della nostra città. Dice il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco. Ma è come oggi di fondamentale importanza consentire ai giovani di praticare sport e soprattutto quello all'aperto. Grazie alle competenze dell'assessore al bilancio Antonella Onzo e dei nostri tecnici il progetto nonostante sia in fase iniziale ha già basi molto solide e potrà essere portato a termine in tempi brevi. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati chiusi ben due uffici postali a Chiaveri, quello di Via Franceschi e quello di Viale Millo. Tale chiusura ha creato disagio e ha comportato che tutta l'utenza, non piccola parte della città, si sia riversata sull'ufficio postale di Piazza dell'Oltro con core anche superiore ad un'ora da farsi in piedi all'esterno dell'edificio come testimoniato da numerosi utenti sui social. Purtroppo oltre il danno la beffa. A dirlo Davide Micheli della Lega di Chiavari che aggiunge In questi giorni molti cittadini ci hanno segnalato che la possibilità di prenotare il ticket selezionando giorno e ora direttamente sul sito delle poste ha funzionato solo per la richiesta dello speed ma non per tutte le altre operazioni, obbligando perciò le persone a sopportare lunghe code agli sportelli mentre in altri uffici del comprensorio, ad esempio Sestri e Lavagna, è invece possibile prenotare anche gli altri servizi. Sul tema interviene anche il consigliere comunale Sandro Garibaldi che dice Ho presentato un'interrogazione al sindaco per chiedere informazioni in merito a tale disagio per la cittadinanza Comprendendo le ragioni della direzione di poste italiane di una temporanea sospensione dell'attività in un periodo limitato ed emergenziale come quello che abbiamo vissuto e che stiamo ancora vivendo Riteniamo che senza una decisa e ferma posizione in merito Chiavari possa perdere un servizio importante che copriva una parte significativa della nostra città A Sestri e Levante un nuovo punto di atterraggio degli elicotteri Per il momento è stato giudicato idoneo Una decisione che verrà tuttavia ufficializzata soltanto a seguito di un test di volo di validazione notturno La giunta comunale di Sestri e Levante intanto ha svolto un sopralluogo nella zona della pista nei pressi dell'autostrada per verificare la fattibilità di inserire un nuovo punto di atterraggio per velocizzare le operazioni in caso di emergenza sanitaria nel Tiguglio L'area prescelta, la pista di atterraggio al lato della floricoltura Garden Pastorelli all'imbocatura di Via per Santa Vittoria non lontano dallo Stadio Sivori potrebbe rivelarsi idonea per essere inserita nella rete regionale Elisocorso in un sito di atterraggio notturno e odiuno perché in possesso dei requisiti richiesti dalla nuova normativa europea in materia di operazioni di volo di recente entrata in vigore La nuova base in caso di idoneità potrebbe dunque implementare il servizio di emergenza sanitaria di Elisocorso notturno che il servizio 118 Liguria Soccorso attiverà presso la base operativa di Riviera Airport di Villanova d'Albenga L'attivazione di una pista di atterraggio idonea notturna prevede alcune restrizioni e differenze rispetto alle normali operazioni di une per garantire massimi livelli di sicurezza quali elis superfici definitive attive 24 ore su 24 localizzate in siti adeguatamente illuminati Nell'ambito di un servizio antidroga i carabinieri di Rapallo hanno tratto in arresto in città per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti un 25enne con precedenti residente proprio a Rapallo I militari nel corso della perquisizione personale e domiciliare hanno sequestrato 160 grammi di marijuana un bilancino di precisione e la somma di oltre 500 euro in contanti ritenuti provento dell'attività illecita Dopo le formalità diritto è stato portato nella propria abitazione in attesa del processo per direttissima I carabinieri della compagnia di Chiavari invece hanno proceduto all'esecuzione di un'ordinanza di cancellazione messa dal Tribunale di Napoli nei confronti di un 23enne partenopeo pregiudicato già sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica L'uomo dovrà scontare 10 mesi di reclusione per i reati contro la persona, contro il patrimonio e la violazione sulle norme sugli stupefacenti Nuova illuminazione in piazza Matteotti Restyling di piazza Verdi Un nuovo semaforo a Bacezza Posti letto per i residenti al Castagnola Prosegue l'ottimizzazione dell'impianto di illuminazione pubblica Chiavari Dopo la sostituzione dei lampioni a Sant'Andrea di Rovereto e sull'Aurelia il Comune ha approvato lo studio di fattibilità per l'efficientamento energetico e il restauro dei pali storici di piazza Matteotti per ulteriori 95.000 euro completando così i lavori iniziati in Corso Garibaldi e Corso De Michele L'intervento, che verrà suddiviso in due lotti funzionali consiste nel restyling dei 12 pali dell'illuminazione disposti sui lati nella manutenzione delle due lanterne presenti per ogni palo con l'introduzione della tecnologia LED oltre all'eliminazione del faro centrale Il progetto, che prevede l'ammodernamento dei lampioni risalenti agli anni 30 e 40 del secolo scorso pezzi unici che caratterizzano la storica piazza si pone l'obiettivo di migliorare la visibilità noturna e di conseguenza la sicurezza, oltre all'estetica Piazza Verdi si rifà al look il comune di Chiavari ha approvato il progetto definitivo che prevede una riqualificazione totale dell'area 650.000 euro investiti per recuperare un ambiente storico centrale sede a metà 900 di un teatro intitolato alla memoria di Giuseppe Verdi nuovi arredi, pavimentazione, un accesso pedonale al parco Rocca grazie ad una scalinata che consentirà di raggiungere i giardini ma anche sistemazione e potenziamento dei sottoservizi presenti si ampia così l'operazione di restyling e restauro del complesso di Villa Rocca tra il suo parco, il padiglione del Tè, il Tempietto e ora anche la piazza Tigua A seguito dell'acquisizione da parte del comune di un tratto di 800 metri di Aurelia appartenente prima ad Anas l'amministrazione comunale ha potuto far installare un semaforo a Bacezza per regolare e mettere in sicurezza l'attraversamento pedonale e l'uscita del piazzale adiacente alla chiesa oltre all'uscita da via Case Sparse Dopo l'allargamento del centro urbano verso Ponente Palazzo Bianco ha terminato l'iter burocratico e la progettazione dell'impianto semaforico un intervento richiesto dai cittadini fondamentale per aumentare la sicurezza dei pedoni e degli automobilisti che quotidianamente transitano su quell'arteria 20 posti letto per persone in stato di assoluto bisogno residenti nel comune di Chiavari presso la residenza protetta Castagnola questo l'oggetto del protocollo d'intesa relativo alla residenza per anziani Castagnola rinnovato tra comune, l'associazione Dame e Damine di San Vicenzo de Paoli e il gestore della casa di riposo Coscare SRL Un atto necessario, fanno sapere da Palazzo Bianco, per dare continuità alla precedente intesa in essere che ha contribuito negli anni a rispondere tempestivamente e adeguatamente alla necessità dei cittadini chiavaresi non più in grado di condurre una vita autonoma richiedendo, pertanto, una residenzialità volta a risolvere esigenze non attuabili a domicilio L'associazione Dame e Damine di San Vicenzo si avvale dei servizi sociali del comune di Chiavari in quanto, come ente pubblico, ha la possibilità di effettuare gli accertamenti socio-economici utili a valutare le situazioni di bisogno che necessitano di un inserimento in struttura La mia intenzione era quella di offrire la cena a tutti i commissari che sarebbero venuti prendermi in carico di tutte le sanzioni e, logicamente, portare avanti quello che era la mia sanzione Tutto a titolo gratuito, chi aveva il piacere poteva fare un'offerta alla quale io non avrei attinto minimamente per pagare quelle che sarebbero state le mie sanzioni bensì un eventuale altro collega che avesse deciso di proseguire l'azione che stavo facendo io avrei dato un sussidio monetario a chi avesse portato avanti la mia iniziativa Purtroppo tutto questo non lo possiamo fare l'avevo già anticipato che sicuramente le forze dell'ordine si sarebbero presentate io quello che posso fare d'ora, e lo faccio più che volentieri, come vi avrei offerto la cena seduti al tavolo ve la posso offrire come asporto Sei gentilissimo, però io personalmente almeno noi non siamo venuti per mangiare siamo venuti per fare un'altra cosa e adesso tornarsene a casa con l'asporto mi sembra più... Ti ringrazio tantissimo, veramente tantissimo Allora, io ho deciso di interrompere questa cosa perché stiamo parlando di penale Il penale va a comportare le conseguenze per me, va a comportare le conseguenze per voi assolutamente Com'è di fare questa cosa del penale? Gli avvocati sono titubanti ancora perché sono leggi nebulose c'è ancora una chiarezza totale Si parla di licenze, si parla di eventuali focolai Se partisse, vi spiego molto velocemente Stasera sono contento che siete persone che non conosco Questo peggiora ancora di più la situazione perché nel caso stasera partisse un focolaio da qua pagherei delle conseguenze penali sia io che voi Sì, ma vorrebbero dimostrarlo che è partito da qua Assolutamente, metta a caso che lei domani va a farsi visitare e risulta positiva al Covid e verrà richiesto dove e in quali locali può aver frequentato le tipologie di rapporto che può aver avuto metta a caso che come lei risulti un altro di voi positivo al Covid loro già due persone ne associano a un focolaio partito da qua Sì, ma neanche le orgo del 1984 A mezzogiorno, scusa, il focolaio Mezzogiorno il focolaio può partire nella stessa e medesima maniera Con la differenza che lo Stato continua a dire Noi dimezziamo al 50% la possibilità di avere focolai ovvero a mezzogiorno facciamo lavorare, alla sera non facciamo lavorare Quindi noi già abbiamo dimezzato la possibilità di un eventuale focolai Mi dispiace tantissimo che voi magari siate partiti Non so da dove Dalla Val Fontana Buona Dalla Val Fontana Buona Averte fatto un viaggio a vuoto Le mie decisioni erano positivissime Mi avrebbe fatto piacere passare una bellissima serata con tutti voi Se c'è da fare qualche altro viaggio a vuoto lo faremo volentieri Spero che i viaggi in futuro non siano più a vuoto Ve lo dico con il cuore Io farei un ringraziamento comunque a Lavagna Perché ti hanno lasciato completamente da solo Quindi questo è veramente una vergogna Assolutamente perché io non penso che gli altri ristoratori Gli altri titolari di Barna abilino a loro Me lo auguro per loro Però questa è veramente una grande vergogna per tutta la città di Lavagna Le dico la verità sono molto dispiaciuto anch'io Magari tante persone un appoggio morale Tanti colleghi un appoggio morale me l'hanno dato Un appoggio morale Ma avrebbe Eh sai com'è Ma avrebbe fatto senz'altro più piacere A avere un appoggio concreto Che purtroppo non ci sta Qua abbiamo un grosso personaggio Ma grosso No, vogliamo Abbiamo Massimo Solari Del ristorante Mira Noi ci conosciamo Da una vita E poi dopo parliamo Un po' anche per il ristorante Va bene Va bene Meno male che abbiamo qui Che io ho qui Massimo Che mi fido sai più di lui Perché tu so che sei un grande pescatore Che tu gestisci il ristorante Mira Da quanti anni? Eh da 140 anni Non io Sì Sì La tua generazione La generazione ovviamente Però tu tutt'ora sei presente Sì E questo qua noi è un piatto Che facciamo Quando lo richiedono Tutte volte Al momento Ah ecco Perché è una cosa che si riesce a fare al momento Sì Abbastanza facilmente Nonostante tutto Abbastanza facilmente Ed è molto richiesta Ovviamente noi abbiamo bisogno Delle acciughe Ovviamente nostrane Come quelle che ci sono Sono qua oggi Qual è il segreto? Il segreto? No Il segreto è sempre la roba fresca E poi l'olio che bisogna cambiare Quotidianamente Sì Ovviamente Sì Ma anche come si Carina Eh va bene C'è l'infrenatura Non deve essere Molto carica Non è carica E poi vi darà La cottura Che è l'olio Deve essere con tanti gradi Se no Non si riesce a fare Bene Ieri non andavano bene Oggi erano quelle giuste Anche noi Quando facciamo Le acciughe all'olio Cerchiamo sempre Di fare quelle nostrari A proposito delle acciughe Quelle con limone Con limone Sì Adesso però Con questo divieto No Si riesce a fare Tranquillamente Il bagno d'acciughe Va fatto così Con la lisca Con la lisca E no Ma no Si spavola Per tutto Quindi nel piatto Nel piatto Ci vanno sia le galette Sia le acciughe Sia Sia il stughetto Perché le acciughe Le galette Deve prendersi Assorbire Assorbire Il succo Anche a Massimo Sì Vabbè Grazie Un prato Massimo Un prato Un prato Un prato Già Previsioni per domani Domenica 17 gennaio Al mattino Cielo nuvoloso O molto nuvoloso Con brevi e deboli piogge Venti al mattino Tra deboli e moderati da est Con rinforzi da nord-est Ad ovest Di Capomele Attenuazione nel pomeriggio Con nuovi rinforzi da nord in serata Partendo dai settori centrali della regione Mare inizialmente poco mosso In aumento a mosso per onda da sud-ovest Nel pomeriggio fino a molto mosso per onda da sud-ovest Umidità sui valori alti Le temperature previste Sulla costa tra 6 e 12 gradi Nel entotera tra 2 e 10 gradi Previsioni per lunedì 18 gennaio Tempo stabile e in prevalenza soleggiato Venti da nord Mare mosso al mattino Umidità su valori medio-bassi Le temperature previste Sulla costa tra 5 e 14 gradi Nel entotera tra 1 e 11 gradi Mare mosso al mattino